Entra Petrov, scarica per Duarte, palla per Salas che apre il mancino, Patias! Sbuche alle spalle di Juanfran e arriva il 2-2 di Alessandro Patias, il pareggio del Real San Giuseppe al minuto 8. Va via Salas, c'è Patias, palla per Patias! La doppietta del Bomber, 3-3 il pareggio. Del Real San Giuseppe! Spazio di guida, poi Giappavien, la porta è vuota, palla per Salas dopo il tocco di Patias, va via Salas, salta tutti, il solo! Denner, Arnon palla fuori, Patias ancora da Salas, la porta è vuota, la doppietta!